La domanda secca, quale sarà il destino dei lavoratori della Micron? Noi siamo a fianco dei lavoratori della Micron perché sono persone che difendono il loro posto di lavoro, anche perché sono una grande ricchezza per la città di Catania. Catania è Catania oggi perché ha anche l'Etna Valley, perché ha lavoratori di altissimo valore tecnologico e sarebbe un clamoroso errore per noi e per il sistema paese se li dovessimo perdere. Saremo a loro fianco operativamente su ogni iniziativa, abbiamo coinvolto la regione, saremo presenti ai tavoli nazionali, chiederemo all'azienda, alla Micron di parlare con noi, di ascoltare le nostre ragioni perché sono tra l'altro lavoratori che producono ricchezza per un'azienda che non è in crisi e quindi non si capisce perché sta licenziando lavoratori verso i quali non ha nessuna ragione di recriminazione.